Ciao a tutti, volevo fare un gran saluto a tutta la gente di Legnano, alla società di Legnano, presidente, allenatore, direttore, tutti quanti, alla gente di Legnano, ai miei ex compagni che ho vissuto un anno strano ma fantastica e un grande abbraccio al mister Di Chiara che nella sua follia mi ha fatto vivere una stagione veramente bellissima. Ciao a tutti!